Allo stadio Antonucci di Bitetto per la sesta giornata della serie a femminile si affrontano la Pink Bari e la Fiorentina per le ragazze di Mister Cincotta la possibilità di avvicinarsi alle tre squadre che la procedono. Si parte subito con la prima opportunità la traversa centrata da Dami e poi il tentativo di ribattuta di testa di Ilaria Mauro che non finisce in porta molto più precisa invece al nono la Toggersen che raccoglie il suggerimento e col destro va a battere Miglioia. La rete dell'uno a zero per la Fiorentina ottimo avvio la reazione della Pink con questa conclusione dalla distanza della Luix sparata senza difficoltà da Orstrom poi tocca invece alla Miglioia mettere sopra la traversa la conclusione e ci riprova ancora la Fiorentina Ilaria Mauro ottima la palla giocata da Cordia la mette alta sopra la traversa e ancora una volta con un'azione che sembra un coping call altro colpo di testa altra palla sopra la la traversa invece conclusione nello specchio della porta ma parata da Miglioia che deve provarci con le dita anche in questo caso Bonetti inizia a scaldare il mancino palla che termina di poco alta come la conclusione di Ilaria Mauro poi prima dell'intervallo altra gran botta di Tatiana Bonetti la rispinta di Miglioia calcio d'angolo allontana il portiere della Pink il tocco con il braccio forse di Paige Calver ha concesso soltanto calcio d'angolo Pistarelli prima dell'intervallo arriva il raddoppio con il piattone Mancino da parte di Tatiana Bonetti sull'assist perfetto di Parisi apre il piede sinistro e la piazza alle spalle della Miglioia la rete del 2 a 0 proprio in chiusura di primo tempo una Fiorentina che aveva giocato decisamente meglio e ha fatto la partita nella prima frazione e un po' anche quello che accade nel corso della ripresa con il sinistro a giro provato da Ilaria Mauro molto largo Bonetti ci prova col piede più debole il destro conclusione in drop che termina fuori così come la conclusione da lontano provata da Paloma Lazzaro corre Filtiens dal fondo mette in mezzo l'anticipo da parte di Novellino poi tocca la conclusione provata da Adami respinta con la palla allontanata la difesa della Pink altro cross lungo di Cordia a vuoto Miglioia ringrazia Bonetti che sull'assist di Lisa Devanna realizza la doppietta personale della rete del definitivo 3 a 0 a 5 minuti dal novantesimo fanno 4 gol per Tatiana Bonetti nelle ultime 4 partite c'è ancora spazio per la conclusione di Filtiens che finisce di poco alta sopra la traversa questo invece il palo centrato da Fusini a pochi secondi dal triplice fischio Pistarelli dice che può bastare a bitetto finisce 3 a 0 per la Fiorentina sulla Pink Bari Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti